Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un altro test mod riguardante il contest ormai ragazzi le mod quelle più succose, quelle che io personalmente ritengo migliori ve le ho portate quasi tutte e io direi oggi quasi di chiudere mi rimangono altri due mod secondo me un po' carine e interessanti e poi torneremo a concentrarci sulla vera e propria essenza del canale faremo i test mod normali, ritorneremo con i gameplay eccetera eccetera oggi vi voglio mostrare questo pack di Ursus ragazzi si chiama Polish Pack che in realtà non sono solo Ursus ma sono Ursus e Zetor è un pack di Ursus e Zetor più mi sembra due modelli di pale gommate adesso andremo a vederle come sempre ragazzi sapete che i miei test mod sono veloci qui ci vorrebbe mezz'ora per farvi vedere tutto, per farvi spulciare tutto ma io cercherò come al solito di essere un po' pregno essenziale e come faccio sempre lascerò a voi l'ultima parola cioè quella di testare per bene la mod e di provarla perché alla fine i veri giocatori siete voi e lascio a voi la sorpresa insomma di scoprire qualcosa che io magari ho tralasciato o che mi sono dimenticato allora ragazzi io vi faccio vedere un po' qual è l'essenza delle mod in modo che poi possiate decidere se scaricarle o no i miei test mod non sono fatti per spulciare ogni piccola cosa ma per farvi vedere l'essenza così che uno si fa già un'idea e questo pack diciamo è un bel pacchettino contiene come vedete una marea di trattori Ursus e Zetor nella categoria piccoli contiene anche due trattori della Ursus in categoria trattori medi poi ragazzi abbiamo anche in pinze telescopiche due JCB una 524 7M, una 524 6M e poi in categoria attrezzi e caricatori frontali abbiamo come vedete un'infinità un'infinità di cose insomma che poi non andremo a spulciare in questo test mod ma insomma potete tranquillamente osservarle voi vedervele voi insomma ragazzi allora cominciamo con i trattori piccoli ragazzi i trattori piccoli una spolveratina proprio al volo ogni trattore ha un'infinità di configurazioni quindi per quanto riguarda l'attacco idraulico per quanto riguarda i pesi ma anche per quanto riguarda le configurazioni motore come potete vedere ma anche guardate come cambiano i piccoli particolari del trattore guardate agganci per caricatore frontale eccetera eccetera non è stato messo quello di default nel gioco era troppo facile mettere quello di default nel gioco invece guardate proprio modellato proprio il suo carino pesi ruote eccetera eccetera come vedete ogni trattore ogni trattore ha le varie configurazioni non ci mettiamo ovviamente trattore per trattore a vedere tutto perché se no se no fa notte ad esempio guardate questo che carino ha i cosini dietro lunghi i corti o non ce l'ha per niente oppure qui c'è il silenziatore mi sembra quello per la marmitte per la cosina insomma per il cosino lungo guardate che spettacolo le varie configurazioni insomma ragazzi è una mod senza filtro col filtro guardate che spettacolo è una mod per chi come me ama i trattori piccolini patatini vecchi fatta veramente bene io pagherei oro per vedere un pack simile di fiat un pack simile di same o un pack simile di landini io non capisco perché non escono dei pack così o di lamborghini di roba italiana io veramente mi metterei in ginocchio davanti a un pack del genere guardate che spettacolo speriamo che qualche modder italiano prima o poi faccia una cosa del genere e se non sbaglio quest'Ursus qua è lo stesso del pack che vi ho presentato già del pack Ursus con meno configurazioni rispetto a quel pack lì però dovrebbe essere lo stesso modello insomma se non è zuppa è pambagnato insomma se non è lo stesso modello è molto simile poi per quanto riguarda invece i trattori medi ci sono anche due belle bestioline ecco qua abbiamo il 1634 che addirittura può montare vediamo un po' il motore il motore aspetta il motore fino a 155 cavalli quindi si passa da un 119, 136 a un 155 guardate come cambiano i particolari tra un modello e l'altro e poi c'è questo qui il 1232 anche questa arriva a mi sembra a 155 no è già di 155 perfetto eccolo qua ragazzi guardate con le rotine quelle piccoline patatine davanti eccolo qua guardate tutta la gamma degli Ursus se qualcuno ama questo tipo di trattori mamma mia questo è il pack che fa per voi e poi ovviamente ci sono queste appunto pinze telescopiche eccolo qui in cui potete scegliere il modello delle cabine eccolo qua farm special BB eccetera e cose varie sinceramente mi piacciono questo e quello giallo quello bianco mi piace un po' meno forse questo è il mio preferito di questo modello configurazione ruote standard o stretti quest'altro modello mi sembra un pochino più grande sì questo è 107 cavalli 30 chilometri orari questo idem quindi penso che cambi solo un pochino a livello estetico che poi non ne sono nemmeno sicuro mi sembrano molto simili però ecco qua sono questi due modelli adesso andiamo a testarli in gioco allora ragazzi iniziamo avviando il motore eh sentite sentite che suono questi vecchi trattolini ovviamente texture material modello luci lampeggianti tutto funzionante ragazzi veramente al massimo guardate qua quindi adesso andiamo a vedere gli interni facciamo una cosa per volta ragazzi guardiamo gli interni adesso poso il joypad ragazzi guido con la tastiera perché altrimenti delle cose non mi non mi appaiono sono tipo l'IC ragazzi perché questi trattori hanno gli IC sono i primi trattori di farming 19 che hanno gli IC ragazzi quindi questa è veramente è veramente una grande cosa allora eh appunto con eh lo spazio con il tasto spazio della tastiera oppure lo settate oppure lo settate voi sul joypad io poi non l'ho fatto eh abilitate su ogni trattore su ogni mezzo abilitategli IC ecco fatto lo dovete tenere premuto ovviamente tenendo premuto ragazzi il tasto spazio voi andate a vedere eh i vari IC che vi hanno messo nei vari trattori ad esempio in questo c'è l'apertura porte eccola qua eccola qua eccola qua quindi come vedete finalmente qualcuno è riuscito a fare lo script degli IC e in questo modo ragazzi eh facciamo sì che qualche modder magari può prendere questo script e metterlo negli altri negli altri mezzi che farà in futuro io credo che sia una cosa come è successo negli altri farming eh penso che sia una cosa lecita che si possa fare no? perché alla fine gli script eh sono della giants credo non vai a rubare niente a nessuno credo eh poi insomma eh non conosco ancora bene io certe dinamiche però come vedete eh questi script ci sono il problema che io ho notato è che gli script si limitano soltanto all'apertura dei vetri cioè ovvero non è come farming 17 che questi script diciamo eh fanno sì che tu possa accendere i fari accendere accendere le varie cose abbassare abbassare l'attrezzo dietro abbassare il peso davanti come potete vedere qualsiasi trattore eh voi salite qualsiasi trattore voi montate eh il sistema di script di IC scusate è sempre quello di aprire e chiudere le porte quindi possiamo dire che è un inizio è un inizio di IC però non è proprio l'IC completo però insomma è già qualcosa magari a vederlo ecco su su altre mod questo sistema è già comunque un inizio andiamo dalle pale gommate sì lo so ragazzi ho detto pale gommate sono pinze telescopiche aiuto 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 questi sono errori da non fare perché dopo i precisini precisetti si arrabbiano come vedete ecco qua il telescopico tutto funzionante tutto alla grande e entriamo dentro la cabina vediamo eh un'infinità di dettagli ragazzi che sono veramente spettacolari ecco qua guardate che roba guardate che roba il purtroppo la pala gommata qui la telescopica chiamatela come vi pare non monta l'IC come potete vedere non c'è il sistema degli IC però insomma ragazzi io vorrei sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo pack avrei potuto dire tante altre cose su questo pack però ragazzi vi ho fatto vedere l'essenza anche perché io l'ho provato 10 minuti non è che l'ho provato di più però insomma chi non ha tempo di provare le mod io spero che in questi test mod gli facciano capire se la mod è valida o meno insomma fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti commentate commentate in descrizione tutti i miei social lasciate un bel like il link per diventare abbonati o per fare una piccola donazione al canale o per comprare i giochini scontati sui stand gaming andateci a vedere e anche gli abbonamenti per console e cose varie noi ci vediamo al prossimo video ciao